Un punto che allunga l'imbattibilità nel nuovo anno è quella esterna, ma la Fiorentina non è tornata da Udine con il sorriso sulle labbra. Al di là della classifica che non è cambiata più di tanto, perché l'impressione è che la squadra potesse cavalcare l'onda emozionale della super vittoria in Coppa Italia contro la Roma, invece è maturato l'ennesimo 1-1 stagionale, con il primo tempo regalato quasi ai padroni di casa. Brucia il fatto di non aver fatto la settimana perfetta, c'era la possibilità, ce la siamo creata e è chiaro che volevamo vincere, che volevamo vincere perché sapevamo di poter recuperare punti importanti in classifica, ma questa è l'ennesima prova che quest'anno il campionato è veramente un campionato difficile e lo testimoniano tutte le partite del turno, di ieri, di oggi, gli avversari sono lì, che lottono oggi, l'Udinese faceva tra virgolette la partita dell'anno, della vita, per salvarsi, però siamo in una situazione difficile, credo che noi abbiamo fatto uno sforzo importante. Già, nel finale, in effetti, la vittoria poteva comunque arrivare per quelle occasioni non sfruttate per un soffio da Chiesa ed anche dal nuovo entrato Ceccherini. A proposito di Subenti, dopo diverse partite alla Dacia Arena si è rivisto anche Piazza, ma il Croato ha collezionato l'ennesima bocciatura. Io ho fiducia in Marco, lui lo sa questo, però è chiaro che mi aspetto di più, pensavo che oggi potesse incidere di più, potesse saltare di più l'uomo. Deve crederci lui, deve crederci lui e dimostrarlo poi con i fatti sul campo. Sono contento che sia rimasto, sono contento che sia rimasto con noi, è un ragazzo che lavora bene con la squadra, che sta bene dentro la squadra. Credo che anche lui si renda conto che debba fare di più. Tempo per far ricredere tutti al Croato, vice campione del mondo, ne resta ancora, ma per il momento la sua stagione è fallimentare, mentre quella viola ha ancora tutta da scrivere, a patto di non sprecare altre occasioni. Grazie.